Riaprono le scuole e riapre anche la Biblioteca Civica Lagorio di Imperia. Per il Polo Culturale di Imperia dei Amici, schiuso da diversi mesi perché non ha norma in materia di prevenzione degli incendi, è stata una corsa contro il tempo. E per aggiornare il patrimonio bibliografico della biblioteca, in particolare i generi della narrativa adulti e bambini, saggistiche ed altre opere di consultazione generale, il Comune ha deciso di acquistare diverso materiale bibliografico sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, tramite il portale Consip, con riferimento a prodotti editoriali presso l'Internet Bookshop Italia di Assago, per una somma di 1.200 euro, presso la libreria Dante di Via della Repubblica Imperia per 500 euro, ed investire ancora una somma complessiva di 1.700 euro per spese per acquisto beni per il settore cultura. Il Comune inoltre ha garantito che la struttura sarà più sicura, più confortevole, ma anche più moderna e aggiornata. La novità più importante sarà il Wi-Fi, che consentirà a studenti, ricercatori e frequentatori della biblioteca di accedere senza costi e con la massima accelerità all'accesso Internet.